salve a tutte e tutti care amiche e amici che mi seguite in youtube qui il vostro santen chan e notte come potete vedere fa freddo sto mezzo alla strada in pratica nell'atrio nel vestibolo del condominio non so se potete sentire in lontananza ci sono allarme sirene furti a tutto spiano corse da auto panorama veramente assortito io da quel 100 100 sirene fa freddo sono le sete e mezza a otto di sera beh non ho l'orologio come poi anche se ce l'avessi lo avrei avuto di sicuro però si mi scherzi mi si è scaricato e non lo ricarico per esparmiarmi le pile tanto carico ogni giorno il cellulare ma lo avrei avuto di sicuro nel polso della mano che riceve il cellulare perché non sono monco e per questo non sono neanche giorgio napolitano oltre a mancino allora niente fa stare freddo suonano le campane volevo dire qualcosa oggi dei libri digitali degli ebook lo farò in un altro momento per il momento vi saluto e ciao a presto beh come vi dicevo sono appena tornato a casa sono appena salito nel mio appartamento e come trovo nella mia biblioteca stirando un po il braccio cioè allungandolo perché non è che per il periodo di offerto tra tra beh allungando un po il braccio si vede i miei libri che mi aspettano io già ne sto leggendo uno da settimane no perché molto largo ma perché a volte devo leggerlo nei ritagli di tempo e quindi non sto facendo dei tutorial di libri che saranno come tre o quattro mesi che lasciano sospesso quella rubrica invece ho fatto molti tutorial di gastronomia perché ogni giorno mangio e poi ho fatto ho trovato il tempo di fare dei commentari politici a marco travaglio però ecco se sapete qualcosa di libri digitali ditemelo intanto continuo a leggere per poter preparare delle rubriche letterarie più che delle recensioni che già i libri magari sono stati pubblicati da mo e sono dei commenti delle apportazioni mia alla lettura più che alla letteratura quindi vi ringrazio di tutto il vostro santenchan salutando anche a marco travaglio mi raccomando rispondimi ciao che poi marco mi devi dire ma non lo cerchi più capitano della nave per la nave che era una nave senza capitani beh io sono disposto a risalire dalla biscagina basta che mi chiami fai un fischio e io vengo ciao